. Masina resta al Bologna. Il Sevilla ci rinuncia e punta su Carole. Moni e vola al Panathinaikos a zero. Il Bologna, ve l'avevamo già detto ieri, è al centro di diverse voci di mercato. . Certo, sono da scaglionare suggestioni ed operazioni concrete, ma di sicuro in queste ore il telefono del DS Bigon sarà molto caldo, a causa delle varie telefonate che sta intrattenendo con dirigenti della serie A e non. . Non cè stato bisogno di utilizzare lo smartphone per incontrarsi, oggi, col Sevilla, che ha presentato la sua ultima offerta per Adam Masina all'Hotel Mela, sede del calciomercato italiano del 2017. . 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